Sentir dire da alcuni colleghi quando richiamano l'emendamento Kociancic che domani si potrebbe chiamare bianchi, rossi o verdini, perché chi non ha memoria non può avere futuro. Chi dice questo non si ricorda che l'anno scorso il dito era proteso verso l'alto e non verso il basso. E quindi se non ricordano quello che hanno fatto l'anno scorso, giustamente il senatore Malan, specchiandosi, si indignava nei confronti di coloro che cambiano voto. E molte forze di opposizione stanno votando favorevolmente. Vi ricordo che il 40% del GAL sta votando questa riforma. Sono una decina di senatori del gruppo misto. Senatore Malan, per favore, risvolge il suo compito di questore. Presidente, li lasci fare, dimostrano quelli che sono. Senatrice Bottici, anche il suo compito. Dimostrano quelli che sono. Senatore Barani, se ti volga a me, completi il suo... Come ho sempre fatto, Presidente. Come ho sempre fatto. Prego. D'altronde, come dico, la lingua batte dove il dente duole. Io sto facendo una pubblicazione su una schizofrenia politica.